Oltre 2.000 poliziotti e gendarmi, tra cui circa 650 specialisti nella lotta contro la criminalità, saranno dispiegati questa sera intorno allo Stade de France, lo ha annunciato la Prefettura di Polizia di Parigi. Per lo stadio di Saint-Denis è una sorta di prova d'appello. Per la partita di Nations League tra Francia e Danimarca sono attesi quasi 77.000 spettatori. Il match non comporta particolari pericoli secondo la Prefettura, ma le autorità francesi non vogliono correre alcun rischio. Dopo il fiasco organizzativo di sabato scorso, durante la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Le immagini degli spettatori dietro i cancelli dello Stade de France, della polizia che interviene con i gas lacrimogeni e del caos alla fine della partita hanno fatto il giro del mondo. In molti stanno mettendo in dubbio la capacità della Francia di ospitare nuovi eventi sportivi internazionali, ma il presidente Macron rassicura tutti. Da questo episodio trarremo tutte le conseguenze del caso, ma devo ricordare che molte di queste finali purtroppo hanno avuto a volte eventi molto più drammatici e noi ci stiamo preparando per ospitare il rugby nel 2023 e le Olimpiadi nel 2024. Il presidente francese ha anche ribadito tutta la sua fiducia nel ministro degli interni Gérald Darmanin, che però è nel mirino delle critiche soprattutto provenienti dal Regno Unito. Il ministro degli interni sostiene che sabato scorso lo Stade de France erano presenti dalle 30 alle 40 mila persone senza biglietto con biglietti falsi, soprattutto tifosi inglesi. La Federcalcio francese e l'UEF hanno confermato la presenza di almeno 2.800 biglietti falsi.